Sono segretario generale del Partito Democratico, quindi io credo che il PD in Valle d'Aosta, in una regione autonoma, abbia un ruolo importante. La difesa dell'autonomia è un ruolo importante. Noi crediamo che l'autonomia sia un valore importante per noi. E' proprio per questo che abbiamo cercato un'alleanza importante con l'Ina Badotene, la Stella Alpina, creare VDA per cercare di andare a governare la città di Aosta. E lo vogliamo fare seriamente, lo vogliamo fare con convinzione. Però il PD è anche il motore delle riforme. Come sta facendo Matteo Renzi in Italia, vorremmo fare anche qui in Valle d'Aosta. Bisogna avere coraggio. Quello che sta dimostrando il Premier lo vorremmo portare qua. Il coraggio di cambiare anche qui, il coraggio di fare le riforme anche qua, il coraggio di lanciarsi, il coraggio di buttarsi in avanti, il coraggio di guardare al futuro e non al passato. Io credo che insieme, come l'abbiamo detto, insieme si può, insieme possiamo andare alla conquista della città di Aosta, di molti comuni sul territorio e insieme possiamo fare le riforme che sono necessarie a Roma come qua.